per mettere la prima schiacci il freno con il destro, il sinistro lasci sempre sulla pedale paletta di destra verso te, ok, ok, sei prima, quindi possiamo partire ok, seconda con la paletta di destra, terza, terza inizia a fregare, entri nella destra, non scalare, aspetta da dare gas, intambi l'interno, in progressione, poi dare gas il freno muove fino, entri nella sinistra senza gas, aspetta da dare gas, intambi l'interno, in progressione gas, rimanendo all'interno e molli il gas in entrata, l'oridante, l'uscita il freno è deciso, vai a essere stretto a destra, subito a sinistra in progressione gas, guarda, frena forte e ne togli una aspetta da dare gas, in progressione, dagli gas è l'uscita guarda, vinta, frena forte, 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 le togli una, due no, frena sempre forte, gradualmente, poi le pressioni, però nella prima parte per l'inforzo non troppo il motore, frena, forte, le togli una guarda bene bene, l'esterno, cerca di mantenere sempre le mani, ok dopo la sinistra, prima l'interno è uscita, molli il gas in entrata, il filino di gas in uscita ma il deciso qua, non so andare troppo sotto, che poi ci farà passare non so andare troppo sotto, decelera, 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 perché poi qui ci fa passare se lui chiuda lo topponiamo, sì, dopo a frena vietra e tornati a sinistra, vabbè, così, e me lo devo passare, e me la ragazza guarda, quinta, poi è deciso, ne togli due aspetta la ragazza, aspetta la ragazza, vedi che se no dai in anticipo vai sotto queste sono curve che girano molto, stai dentro a sinistra, ok, superlo pure, bene, quindi un po' la gas in entrata, quindi non si va a prendere deciso qui, destra subito a sinistra, in progressione riapri scherzo, in progressione gas, guarda, con in accordo, ne togli due aspetta la ragazza, da pienino interno, professore gas a sterno, guarda, appinta, volendo forte ne togli due, sinistra, un po' la resta, in progressione gas, eh, cazzo, è un po' il adesso. Prego un pochettino, guarda bene per la stanza... sempre terza? sempre terza, sempre terza, rimani interna, in oscita, poi l'intro guarda, dentro guaduna destra, la pulite in... terza, si, siamo verso, sta, quando viene deciso qua, dentro guaduna destra, dentro guaduna la destra. Quarta, quinta, prena deciso, ne togli due, aspetta la gas, viene all'interno, progressione gas, viene un po' che tiro qui dentro, come dalla sinistra, aspetta la gas, viene all'interno, sempre gas, rimane all'interno, guarda la gas in entrata, vede all'ultimo, la gas in uscita, prena deciso qua, Tengo una marcia, eh? Sì, tieni sempre la marcia, te ne dico sempre, guarda, prena forte, ne togli due, guarda la sinistra, da bere all'interno, e progressione gas in entrata, guarda, quinta, prena forte, ne togli tre, Poi sinistra, subito l'estra, viene appestato la squadra, vinta, prena deciso, ne togli due, e togli una, guarda bene, vedi all'esterno, il nuovo interno, rimane interno, uscita dalla sinistra, Buon la gas in entrata, e allora dai, grado a orientino, uscita, prena deciso qui, entro qua dalla destra, interno, guarda, quinta, i freni a forte, ne togli una, due, e rientri a un, dai, box, abbiamo finito, andiamo a un altro giri, oh bene, infatti, basta, guarda bene? Quanti, facile, bene, qui bene, ma hai fatto delle competizioni, qualcosa, no? correvo un po' qui qua si vede che hai senso delle traduttorie come faccio a avere adesso vai solo con il muso in corrispondenza del paletto libero ancora qui a sinistra ancora 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 come faccio a avere tutte e due le palette n si ho avuto bene un po' di sti